A Pizzoli, popoloso comune vicino l'Aquila, torna la paura per il covid e soprattutto per le varianti. Dopo il caso di 5 studenti della primaria positivi, il sindaco Gianni Anastasio è stato costretto a chiudere sino al 3 marzo il plesso della primaria nella frazione di Cavallari e la ASL ha posto in isolamento ben 90 persone, mentre le medie sono regolarmente aperte. Questo focolaio preoccupa non poco, anche se il comune ha messo in atto tutte le misure precauzionali necessarie. Siamo preoccupati perché ovviamente abbiamo a che fare con un nemico invisibile, per cui non sappiamo come agisce, per cui l'unico modo per potersi tutelare è quello di creare un distanziamento più che sociale a questo punto con la didattica a distanza. Dal momento in cui sono coinvolte quasi 90 persone in quarantena, è giusto che si chiude la scuola, anche perché stiamo vicino al 50% degli alunni della primaria e per un po' di giorni fanno la didattica a distanza, fino a quando scade il periodo della quarantena faranno i tamponi e poi torneranno a scuola, così come è successo che oggi è tornata a scuola una parte invece delle scuole medie, che era in quarantena già da qualche giorno della scorsa settimana, per cui l'unico modo per potersi tutelare è questo. Quindi l'ordinanza è servita proprio per evitare che ci possano essere maggiori contagi. Oltre a questo, come ormai noto, c'è stato un caso acclarato di variante inglese su uno studente delle medie e il Comune attende risultati anche per gli altri due studenti positivi. Probabilmente verranno condotte analisi, vista la diffusione della variante, anche sui tamponi degli studenti della primaria. La scuola è in realtà un focolaio molto a rischio, perché? Perché i bambini stanno tutti insieme, mangiano insieme, fanno le attività insieme, poi sono bambini, quindi è difficile per loro essere distanti l'uno dall'altro. Per cui questa è la situazione e la teniamo sotto controllo e man mano che si sviluppa prenderemo le decisioni necessarie. Per quanto riguarda tornando alla primaria, lei sa qualcosa se verrà fatto anche su questi cinque casi il sequenziamento per vedere se trattasi di varianti? Beh, da quello che dice la ASL il sequenziamento verrà fatto, poi vedremo quali saranno i risultati, perché sappiamo che le varianti comunque hanno bisogno di più giorni per poter essere acclarati.